Buongiorno, ben svegliati e bentornati alla rassegna stampa di Super J, insieme andremo a leggere le principali notizie che troviamo sui quotidiani locali. Intanto diciamo subito che l'argomento principale che troviamo anche in primo piano sui quotidiani nazionali è il caldo, l'AFA che purtroppo continua a mietere vittime anche nella nostra regione. Andiamo per ordine, vediamo subito le prime pagine delle edizioni delle varie province del quotidiano Il Centro. Iniziamo con l'edizione di Teramo, lo vedete il titolo in primo piano, Pescara Roma, arrivano 8 miliardi. Marsiglio dice che la linea ferroviaria si farà il vice ministro, priorità del governo. Dunque una buona notizia per quanto riguarda il collegamento tra l'Abruzzo e la capitale. A proposito di caldo, il problema, e lo avevano già denunciato anche in provincia di Teramo i sindacati, è il troppo caldo anche all'interno delle fabbriche. Troppo caldo, a San Salvo c'è lo sciopero alla Pilkington, proteste dei sindacati per i disagi degli operai e a Valsorano, malore fatale per un 62enne. Schianto a Mociano, la vittima è un camionista di 44 anni. L'incidente in moto si indaga sulla dinamica, poi vedremo la notizia nel dettaglio sul messaggero, perché si ipotizza addirittura un'auto pirata. Torno in parte, veterinario muore a 35 anni, sarebbe diventato papà tra tre mesi, il gesto sarebbe volontario, dunque si tratterebbe di un suicidio. Lutto a Roseto, addio a Tansella, storico speaker del Roseto Basket. A Teramo si torna a parlare del parcheggio dell'ospedale, parcheggio da completare. Il Consiglio Comunale darà l'ok al progetto ASL. Non si farà un piano in più. Cinque anni dalla morte di Marchion, il manager teatino, la sua eredità, anche l'Abruzzo ricorda il grande manager, leader illuminato, che ha cambiato le sorti, tra l'altro, anche di quella che è stata l'azienda più grande dell'Italia, ovvero la Fiat. Andiamo adesso a leggere le notizie dell'edizione di Pescara, del centro. La prima pagina, Palazzo Clerico, una bomba sociale, viaggio del quotidiano il centro nella baraccopoli della droga. La Lega dice sì all'abbattimento e poi ovviamente ritroviamo la notizia Pescara-Roma, pronti 8 miliardi per il collegamento e Marsiglio, come abbiamo già visto, ha detto che l'opera si farà. Trovata la donna scomparsa da casa, Patrizia Terrenzio, avvistata da un cittadino al cimitero di San Silvestro, è stata portata in ospedale per fortuna e in buone condizioni. Per il calcio di Serie C, Sebastiani Pescara nel girone B, 17 gol nel test con il manoppello, col ripescaggio della casertana, cambiano i raggruppamenti. E poi, sempre a Pescara, in Viale Kennedy, un imprenditore è stato redderubato sotto casa, gli è stato rubato il Rolex. Sempre la prima pagina del centro, questa volta dell'edizione Chieti-Lanciano-Vasto e anche per Chieti-Lanciano-Vasto l'apertura è dedicata al collegamento Pescara-Roma e gli 8 miliardi che arriveranno per la linea ferroviaria che si farà. Lanciano-Ortona e altri 7 comuni domani resteranno senza acqua a causa di una rottura dell'acquedotto del verde causata dal clima torride. Come vedete il maltempo, perché insomma il caldo così forte e definibile a tutti gli effetti maltempo non solo crea problemi nelle fabbriche, che provoca delle vittime, ma provoca anche dei disagi. Nuova spaccatura in maggioranza a Chieti, lite in comune per l'intitolazione di un'aula a Berlusconi e anche sui genitori gay. A Lama dei Peligni c'è un'indagine perché un uomo ha deciso di mordere il naso alla moglie, probabilmente durante un litigio. Un 42enne finisce nei guai. A Gioia dei Marsi orsa con due cuccioli in paese, intrappolato nel cortile uno dei piccoli e scattato il salvataggio. E per quanto riguarda l'edizione aquilana del centro, in prima pagina ritroviamo in primo piano la notizia che abbiamo già letto in breve nelle altre edizioni, ovvero il suicidio di un veterinario, di un giovanissimo veterinario. Si toglie la vita a 35 anni, la tragedia torna in parte, il paese sconvolto stava per diventare padre. Crolla a terra tra la folla, l'afa record fa un'altra vittima a Balsorano, l'uomo aveva 62 anni. All'Aquila clima africano nel bus, malore per un autista. Progetto case, siamo sempre all'Aquila, controlli antisismici, il comune avvia verifiche su 7 mila isolatori che evitano danni dalle scosse. E poi, ecco, la notizia l'abbiamo letta poco fa, la vogliamo rileggere perché noi abruzzesi siamo orgogliosi dei nostri orsi, ovviamente li trattiamo bene. Gioia dei Marsi, orsa con due cuccioli in paese. Uno dei due cuccioli è rimasto intrappolato in un cortile, è scattato il salvataggio ed è tornato libero insieme alla mamma. Ed è tutto per quanto riguarda le prime pagine del quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere il messaggero partendo dalla cronaca nazionale. Come avevamo detto in apertura della nostra rassegna stampa, anche qui in primo piano il caldo record, AFA e Vento, prime vittime, piano caldo per i lavoratori, colpi di calore, nubi fragi e virus, ospedali intasati e anche tre morti. Cighe, orari flessibili, il governo lavora al decreto, più pause nei campi. E come vedete purtroppo questo clima sta facendo diffondere di nuovo dei virus e sono tante le persone, soprattutto gli anziani, le persone con delle fragilità che finiscono in questi giorni, non solo per il caldo ma anche per i virus, in ospedale. Ed ecco qui l'emergenza dell'estate, il caldo scatena i virus, assalto agli ospedali e ci sono i primi morti. Ai colpi di calore si sommano le infezioni anche per il cibo alterato. Dunque grande attenzione bisogna fare in questo periodo quando conserviamo i cibi. Pronto soccorsi intasati, più 30 e pochi medici, tre vittime a causa dell'AFA. Il caso di Latina, il calvario in corsia, pazienti in fila per ore, qui per noi è un inferno. Il racconto di una donna, sala piena e malati abbandonati, medici e infermieri non bastano per seguire tutti. E purtroppo il caso di Latina non è unico, in diversi ospedali si verificano situazioni di questo tipo. Poi siamo in estate, anche i medici e gli infermieri hanno diritto alle loro ferie. e dunque più persone si recano in pronto soccorso per i problemi come vedevamo legati al caldo. Però se manca il personale sanitario la situazione diventa difficile. vento e nubi fragili, il nord nella morsa del maltempo, donna uccisa da un albero. Dunque vediamo in questi due giorni l'Italia divisa in due, al nord il maltempo porta vento e nubi fragili, al sud invece persiste il caldo e le temperature però dovrebbero cambiare già a partire da domani con un clima decisamente migliore. Dunque andiamo avanti sempre per quanto riguarda il messaggero e vediamo le notizie che arrivano dall'Abruzzo. Leggiamo la prima pagina. Due morti per il super caldo. Balsorano in lutto per Vincenzo D'Ambrosio si è accasciato a terra durante una festa a Sora. San Salvo, chef fulminato dal malore, aveva detto ai familiari è impossibile lavorare ai fornelli. Pescara, piano di ricerche ok, Patrizia Terrenzio scomparsa, è stata trovata viva. Teramo, schianto fatale al camionista, c'è il sospetto dell'auto pirata. Ventura Poltrone, 44 anni, era in sella al suo scooter. Nuova ferrovia, Marsiglio, investiremo 8 miliardi. Dunque vediamo che questa è una delle notizie principali di oggi in Abruzzo. Addio reddito di cittadinanza in 14 mila, restano senza sostegno. L'allarme di CGL Anci, l'assessore regionale Quaresimale. Siamo pronti ad intervenire e vi annuncio sin da adesso che nella nostra trasmissione delle 9 a colazione avremo ospite proprio l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Il reggimento L'Aquila Alpini, feriti in Kosovo, ritorna il contingente. Militari abruzzesi coinvolti negli scontri, a giorni tutti i soldati saranno di nuovo in Italia. Il colonnero Mario Bozzi, stanno guarendo un successo la missione. Potenziamento della ferrovia, il governatore Marsiglio, investiremo 8 miliardi. Pescara, Corso Vittoria, lavori al via dal 31. Slitta l'ipotesi di rinviare l'intervento a dopo Ferragosto. La strada dovrà essere liberata per la riapertura delle scuole. Associazioni dei commercianti, mobilitante per sabato. Ricordiamo le elezioni perse dal centrodestra nel 2014. Crescenti, il riscaldamento globale non è legato alla condotta dell'uomo. L'ex rettore della D'Annunzio affronta il tema del clima, mentre Caronte, come dicevamo, non dà proprio tregua. La donna scomparsa, ritrovata svenuta dal custode del cimitero. Angoscia finita per Patrizia, Terrenzio era a San Silvestro dietro una tomba. Era stato il marito a dare l'allarme volante e 118 l'hanno assistita e sta bene. Era sdraiata a terra senza conoscenza quando il custode del cimitero di San Silvestro ha visto quella donna esile e sola riversa dietro un edificio funerario e ha avuto come primo pensiero quello di dare l'allarme. Un intervento provvidenziale che molto probabilmente ha salvato la vita alla donna che poi è stata soccorsa e portata in ospedale. Adesso fortunatamente sta bene. Per i trasporti, tu a bilancio inattivo e nuovi bus elettrici. Numeri importanti per De Angelis e Di Pasquale, elogiati da Marsiglio, Masci, una flotta di inquinamento zero. E a proposito del bilancio tracciato ieri nel corso di una conferenza stampa, vi riproponiamo il nostro servizio. Bilancio positivo futuro sostenibile è il claim scelto da tua azienda di trasporto pubblico abruzzese per presentare il bilancio di esercizio 2022 definendone i risultati e descrivendone le prospettive. Oggi presentiamo il bilancio e cogliamo l'occasione anche per presentare a tutti quanti voi i primi 50 pullman a metano dei 100 che abbiamo acquistato. Bilancio positivo, innovazione per quanto riguarda il parco rotabile, insomma un momento in cui tutti gli investimenti importanti che abbiamo fatto in questa azienda stanno iniziando a dare i loro frutti. 336.582 euro di utile netto nel 2022 nonostante guerra, congiunture internazionali non favorevoli e shock dei prezzi delle materie prime su tutti i carburanti. Questa è la sfida più importante che abbiamo dovuto affrontare lo scorso anno perché solo di costi in aumento per il caro carburante abbiamo registrato poste per circa 5 milioni di euro e qualcosa. Abbiamo ridotto alcuni costi, abbiamo fortunatamente ripreso leggermente ad avere un aumento nella bigliettazione perché il traffico post pandemia piano piano sta ripartendo e tanta tanta attenzione a tutte le componenti aziendali per ottimizzare al meglio il rapporto costi-ricavi. Nell'ultimo triennio tu ha acquistato 100 nuovi autobus interurbani da 12 metri a metano, 5 urbani elettrici, 6 filobus elettrici, 12 autobus suburbani, con la contestuale radiazione di 117 autobus a gasolio. Come vedete mentre tutti parlano con dei fondi del PNRR come se non ci fossero, non si sapesse dove sono, qua lo facciamo vedere, i pullman sono già arrivati e stanno già in consegna e da domani saranno sulle nostre strade. Quindi stiamo dando corpo e sostanza al piano di recupero e resilienza e l'Abruzzo sta facendo la sua parte. E adesso le notizie pubblicate dal quotidiano Il Messaggero che arrivano dalla provincia dell'Aquila vogliono coprire le bifore di Braccio da Montone. Il caso finisce in procura, scoperto un tesoro inestimabile nell'aggregato Sperone di Fontebraccio. La soprintendenza ha stoppato tutto e ha informato magistrati e carabinieri. L'operazione Il Nucleo tutela dell'arma restituisce una tela preziosa. Si tratta di un dipinto andato perso da 30 anni e ritrovato da un aquilano. Giovane veterinario trovato morto sarebbe diventato presto papà. L'ipotesi del gesto estremo, il sindaco Fiori, non lasceremo mai soli padre e compagna. Purtroppo i casi di suicidio in questi giorni sono diversi, si ripetono e ne abbiamo registrati alcuni anche in provincia di Teramo. Gran sasso, nuovo boom, ma la viabilità è nel caos. Numeri record nell'ultimo weekend con presenze dall'Italia e dall'estero. Rimane il grave problema dei parcheggi. Pignatelli ripristineremo ciò che si era fatto. Adesso andiamo a vedere le notizie che arrivano dalla provincia di Teramo, anzi dalla provincia di Chieti. Scusate, non c'è il numero legale, salta il Consiglio Comunale. Registrazione dei bambini arcobaleno e spazi intitolati a Nilde Jotte e Berlusconi, Barbara Di Roberto. Dato politico grave, Carla Di Biase, solo puerili, scontri interni. Terminal bus pronto a metà agosto. Piazza Memmo, il sindaco ha avuto rassicurazioni da Tua, problema caos traffico per le feste di settembre e le scuole. Incontro tra i sindacati e Paolini, trovato un accordo per la gestione dei pullman con la presenza dei giostrai. AFA, chef morto, esposto in procura. Graziano Bellano, 43 anni, si era confidato con i parenti per il gran caldo ai fornelli e aveva detto proprio che non era più il caso di lavorare in quelle condizioni. Le notizie dalla provincia di Teramo, il parcheggio dell'ospedale, convenzione ASL, la commissione dice sì. La minoranza assente alla riunione, l'accordo verrà discusso in consiglio, il multipiano al servizio dell'ospedale a questo punto può essere completato. Vediamo nelle foto, eccolo qui, questo è il mega parcheggio e qui invece le immagini della discussione di ieri in commissione. Prati di Tivo, Finori vince ancora, parliamo degli impianti di risalita, l'avvertenza. Marco Finori ha posto un altro sigillo nella sua personale battaglia di cercare di risollevare le sorti della località turistica dei Prati di Tivo. Ha incassato un altro punto a suo favore sul versante giudiziario, strappando un successo, seppur momentaneo, ma che può aprire scenari interessanti. In buona sostanza l'imprenditore, dopo il giudizio del Tribunale di Teramo, resta al suo posto, cioè in veste di custode giudiziario e gestore degli impianti di risalita dei Prati di Tivo. Purtroppo un altro incidente sul lavoro è precipitato dal solaio e grave, un manovale. Il caso Cantieri-Movida, ricerca della sosta, la protesta dei residenti per il caos, chiesta la sospensione dei lavori per il periodo estivo, interviene anche sulla sporcizia provocata dai locali. Schianto mortale, la morte proprio del camionista di 44 anni, Mosciano Ventura Poltrone guidava la sua motocicletta. Lo scooter avrebbe sbandato e sarebbe finito contro un palo. Questa almeno è stata la prima ricostruzione. La polizia non esclude la presenza di un'auto pirata in corso indagini per risalire all'eventuale vettura. Da sabato il carnevale sfilano anche le barche. Siamo a Giulianova, tra gli eventi a tema la festa dei bambini, mongolfieri in piazza. Insomma, torna uno degli appuntamenti più importanti e attesi dell'estate giugliese, ovvero il carnevale che è stato presentato ieri. Noi abbiamo realizzato un servizio. Torna il carnevale a Giulianova. Rispetto all'anno passato, tanti cambiamenti a partire dal numero dei giorni, quest'anno 4, e la sinergia con il comune Siculo di Mister Bianco. Si parte il 29 luglio con la sfilata dei carri organizzati dai sei quartieri nel centro storico. Tre giorni dopo lo spettacolo di carnevale per i più piccoli. Il 5 agosto i carri sfileranno sul lungomare, mentre il giorno dopo la grande novità. Il carnevale sul mare con l'ausilio delle imbarcazioni. Si preannuncia uno spettacolo importante e soprattutto un elevato numero di turisti. Il carnevale che abbiamo voluto estendere, abbiamo voluto valorizzare ulteriormente tantissime le iniziative. Il 29 si farà al paese, il 5 di agosto invece a Lido, spostandolo sulla parte del lungomare centrale, perché ovviamente c'è la possibilità di accogliere ovviamente tante più persone. Oltre quello poi ci sarà il carnevale per i bambini, il primo, e il carnevale sul mare, il gemellaggio con Mister Bianco, ma tantissime sono le iniziative. Anche quello appunto del sasso per il sorriso, che sarà una sorta di cacciatesoro che mettiamo e quindi ringraziamo il gruppo che lo ha realizzato. Un carnevale che ogni anno vuole crescere, un carnevale che vuole regalare sempre di più momenti magici e quindi di ricordo del nostro territorio. Ecco perché quindi si svolge al paese, si svolge a Lido e quest'anno la novità anche sul mare. Questa è la grande novità sul mare, quindi ci siamo un po' inventati questo carnavale estivo a modo nostro. Secondo me questa del mare sarà una bellissima iniziativa e avrà un grandissimo successo. Ma non è solo l'unica iniziativa, abbiamo anche l'iniziativa del carnevale dei bambini, quindi abbiamo avviato questo villaggio di carnevale per i bambini. E sarà un'altra novità interessante. E' sempre a Giulianova la gara dei Castelli di Sabbia, vince lo stabilimento Malibu. Due eventi molto apprezzati nella calda domenica d'estate. Si è conclusa con la premiazione nello stabilimento Malibu, la competizione tra Castelli di Sabbia, un castello da vivere che si è svolto appunto nel weekend. E adesso lo sport Pescara, una goleada in attesa del bomber, ben 17 gol nel test contro il Manoppello. Ancora bene Squizzano e anche da gasso. Trent'anni fa la storica salvezza in Serie B per quanto riguarda la Marcord. Penalizzazione e tante stelle da far coesistere. Il professor Scoglio esonerato dopo tre partite. La Serie C Pineto della Quercia parla da capitano. Sarà fondamentale costruire il gruppo. Oltre cento partite in Piaggazzurro per la prima volta sarà protagonista tra i professionisti. E poi il Teramo Calcio, parla l'allenatore Pomante. L'obiettivo è vincere. Ieri si è radunato il nuovo Teramo. Il tecnico suona la carica. Abbiamo l'obbligo di provarci. Siamo una piazza importante. Mancano ancora cinque elementi per completare la rosa. Chiusa la porta all'arrivo di Emili. È passato tanto tempo. Dunque parte questa nuova avventura, veramente tutta nuova, del Teramo Calcio. In eccellenza con una nuova società, un nuovo presidente. Uno staff per gran parte riconfermato invece a partire dal tecnico Pomante. E c'è davvero grande entusiasmo intorno a questa nuova avventura bianco-rossa. E a proposito di tecnico Pomante, ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato noi di Super J. Riparte questa avventura. Secondo anno si parla di eccellenza. Che tipo di squadra è nata? Sta nascendo una buona squadra. Una squadra normale non completa, ancora incompleta. Però ci sta perché noi ci portiamo dietro il problema dell'anno scorso. Non avendo un settore giovanile non abbiamo la possibilità di prendere giocatori all'Uniors. Però sta nascendo un bel gruppo. I giocatori che hanno voglia di dimostrare il valore. I giocatori di mettersi in mostra a terra. Ma lo dimostra anche da come si sono presentati a livello fisico. Perché la maggior parte dei ragazzi si è presentato nel migliore dei modi. E questo fa ben spesare per il futuro. Anche non entrando nel merito, quali sono i tasselli che mancano? Soprattutto sulla linea mediana? Sì, sicuramente. A centrocampo dovevo prendere almeno un paio di giocatori. E' un over sicuramente poi da valutare. Se prende due over o un over o un under. Però sicuramente a centrocampo dobbiamo completare il reparto. Perché abbiamo deciso quest'anno, a differenza dell'anno scorso, di giocare con il centrocampo over. Quindi di mettere un giocatore a fianco a Ferraioli. Anche se ho la possibilità anche di far giocare Massarotti. Massarotti è un giocatore molto duttile. Che può giocare sia come quarto di destra e quarto di sinistra che come centrocampista. Molti, possiamo dirlo, tra i vari allenatori, ti invidiano la linea offensiva. Turede, Gidio, Dosantos. Lo so, io so che sono un privilegiato. Ma sono un privilegiato dell'anno scorso. Non tanto perché alleno Dosantos, Turede, Gidio. Ma perché alleno il Teramo. Al di là della categoria. E questo lo so. Fa parte del gioco. Sta a me farli rendere al massimo. È normale che i campionati non si vincano con i nomi. Sarà un campionato sicuramente difficile. Tante le squadre si stanno attrezzando. Ma tra i motivi di interesse, come se è anche abruzzese, c'è sicuramente Teramo Giulianova. Il derby che torna dopo tanti anni. Sì, sicuramente. Questa è una cosa che mi stavano dicendo dall'anno scorso. Dall'ultima giornata di campionato. È normale che è una partita sentita per la piazza, per la tifoseria. Non lo deve essere per noi. Perché per noi sappiamo che non lo è, ma deve essere una partita come tutte le altre. E per quanto riguarda la Serie D, Chieti. Ecco anche Conson. Lavoro in corso all'Angelini. Cominciata la preparazione. Si attende l'ufficialità per Mazzei e Cardellino. L'Aquila corre con Puce. Saremo protagonisti. Il preparatore guida la seduta del mattino. Faremo il massimo. Basket in carrozzina. La Micacci sogna l'assalto al titolo continentale. L'ultima passerella per la Micacci. Dominatrice del basket in carrozzina tricolore 2022-2023. È stata ripatenatina per il premio, il prestigioso premio. Rocchi Marciano, il presidente a capo della delegazione del team. ha mostrato a tutti la Coppa dello Scudetto prima di ricevere il premio di squadra dell'anno. Come dicevamo, un riconoscimento veramente prestigioso che si abbina alla stella di bronzo del Coni al merito sportivo. Un anno davvero d'oro per gli straordinari atleti della Micacci. vero e proprio fiore all'occhiello dell'Abruzzo. Sempre per il basket di Serie B. Roseto mette nel mirino Donadone e Andre Jones. Mancano un regista e un alla grande per il quintetto base. E con il basket chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina. Io vi ricordo, prima di salutarvi, l'appuntamento delle nove, sempre in diretta con la trasmissione a colazione. Questa mattina sarà con noi l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Per adesso è tutto. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.